Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 14 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo bilancia. Sabato scombinato dalla Luna. Sarà la quadratura della Luna oggi a creare malumori in voi e perturbazioni sul tetto di casa. Nel gioco entrano anche le spese, per abbigliamento, trucco e parrucco, sempre ineccepibili ora che avete Venere elegantona nel segno, decisamente fuori budget rispetto ai guadagni consueti, frutto di un lavoro faticoso e impegnativo. Sarà per questo che cercate consolazione dove potete, acquisti inutili, piatti sfiziosi ma hipercalorici. Il vero problema, nonostante l'aspetto grazioso, è il tono energetico, decisamente fuori fase, riempirsi il piatto non basta restituirvi vitalità, con il sole e mercurio blindati in dodicesima casa, tutto, non solo il lavoro, anche le faccende consuete oggi vi costa un'enorme fatica. Inutile la pressione degli amici che vi invitano a ballare o a raggiungerli fuori città, vero che i weekend settembrini sono ancora magnifici, ma spappolati come siete non desiderate nient'altro che tirare giù la saracinesca e andarvene a dormire presto. Su con la vita, per fortuna tutto passa, dove c'era il sole arrivano le nubi, ma dove ci sono le nubi prima o poi torna a splendere il sole. Si apre una fase negativa per l'amore, la colpa è da ricercare in errori commessi prima e durante un rapporto. Sarà difficile recuperare una situazione, abbattimento e solitudine contribuiranno ad allontanarvi dalla persona cara. Arrivo di notizie negative. Singli in pena e in baglia della tristezza e della solitudine. Mostrate più affidabile. Evita alcolici e cibi ricchi di zucchero. SIC auto con fili elettrici scoperti, prese e spine malfunzionanti. Che ne dite di dedicarvi di più al vostro partner? Per i single oggi potrebbe essere una buona occasione per fuggire dall'al convinzione di restare in questo stato ancora per molto. Telefonate e messaggi in arrivo. Aiuti da parte di parenti abbastanza inatessi che vi stupiranno. Delusioni da parte di amici. Pensare nostalgicamente al passato serve a ben poco. Industriatevi affinché sia il presente a prendere la piega giusta. Non è incolpando gli altri che le cose andranno meglio. Cercate di riflettere di più sui vostri errori. Giornata molto impegnativa. Occorre tutta la massima concentrazione, favorita da Nettuno, per portare a termine i consueti impegni. Qualche amicizia nuova potrebbe essere molto interessante. Sentimentalmente dovrai fare attenzione a non far pesare le tue tensioni sulla partner. Un consiglio, proponile una breve vacanza in un luogo di mare. Sognate una vita stabile con il partner. Ma per farlo dovete prima raggiungere una stabilità economica. Lottate. Ogni giorno porta il suo affanno e oggi potreste avere qualche motivo in più per recriminare, anche se per l'amore si aprono buone prospettive, con la conferma di alcuni importanti rapporti di coppia, per il restante non si potrà dire certo che questo è un giorno fortunato. Un bel mercurio in vergine innalza il livello della vostra concentrazione intellettuale, un vero dono del cielo se dovete sostenere esami o concorsi. In linea generale il pianeta vi spalleggia, dandovi capacità speculative di primo ordine che metterete a frutto oggi in ogni campo della vostra vita. I più favoriti sono i nati nella seconda decade bilancina. Solo i nati tra 18 e 22 ottobre fanno per il momento eccezione, poiché fronteggiano rapide svolte della sorte che sapranno neutralizzare con la loro razionalità. Comunque continua in linea generale un periodo positivo e quest'oggi lo toccherete con mano. Venere tenera e raffinata nel segno stasera vi vuole eleganti e bellissimi, magari per andare a ballare o partecipare a una cena in un locale particolarmente elegante. Forse non avete fatto i conti con la disposizione delle altre stelle, però, Mercurio e il sole imbronciati e poco lo quaci in dodicesima casa, Saturno e Netuno preposti al lavoro nel settore numero 6, così pesanti, sfiancanti al punto che stasera altro che cena, cinema, ballo, ve ne andreste volentieri a letto accontentandovi di un paio di cucchiaiate di pastina in brodo. Amore ed Eros. L'amore, leitmotif della vostra vita, oggi delude restando sene quieto e imbronciato nelle retrovie. Se il partner c'è non siete in vena di baci e abbracci, se manca vi leccate le ferite in un mix di rabbia e nostalgia. Possessività comunque fuori luogo, non è così che si trattengono le persone amate, lasciatele libere di starvi accanto o di andarsene, la relazione sarà subito più facile e serena. Giove, Venere, Mercurio innalzano la vostra sensibilità affettiva, non ve ne siete ancora accorti? La mettete in campo guadagnandovi la dedizione assoluta di chi già vi vuole bene. Lasciate un po' da parte alcune incombenze giornaliere e curate di più chi vi è vicino e vi ama, forse in questo periodo ha bisogno di voi e non ve ne state accorgendo. Lavoro e denaro. Lavoro duro sia in proprio sia in azienda, il tipico sabato super impegnato nel tentativo di raggranellare qualche soldino in più. Vita più facile in corso a trattative, non sarà il vostro fascino d'avere la meglio, piuttosto l'innegabile competenza, con voi non si può rivaleggiare. Ardua la scelta tra una serata elegante e romantica in buona compagnia o una versione intimista e solitaria con menù d'arsa goduto in pigiama. Ai posteri l'ardua sentenza. Il vostro astro governatore, Saturno, è neutro, ma fondamentalmente positivo dai pesci. Siate solo attenti a non esagerare in ambizioni, il pianeta vi induce a equilibrare le vostre potenzialità, a riportarvi alla realtà e proporzionare le possibilità ai vostri effettivi limiti. Benessere. Rispetto al solito trend l'estetica oggi non è la priorità, se in amore siete scornati finite con l'affogare il dispiacere in una brioche alla crema, magari due, salvo poi soffrire per il senso di colpa. Bruciorino di gola se insistete con l'andare in giro in canotta, forse non ve ne siete accorti ma il mattino e la sera le temperature si sono abbassate. Per lei, indolenzimenti articolari, un filo di raffreddore, presto per pensare all'influenza, ma le prime piogge settembrine, col conseguente calo di temperatura, quando si è stressati hanno già il potere di mettere co. Per lui, famiglia malinconica, anche la casa vi pare in ospitale, ma dopo aver studiato a lungo l'arredamento, praticamente perfetto, i colori piacevoli e la disposizione dei mobili razionale, realizzate quel che manca davvero, la presenza di un quattro zampe. È tempo di provvedere. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.